Sindaco, ieri insieme al suo collega di Montorio Alvomano, voi avete manifestato il dissenso e non avete partecipato al voto per la nomina del collegio dei revisori al Ruzzo. Perché? Ieri si votava l'organo di garanzia, vigilanza e controllo interno della società e la nomina ancora una volta è avvenuta senza alcuna condivisione, senza alcun coinvolgimento sulla base di un accordo che ha previsto la predisposizione di una terna portata in assemblea senza discussione e che ha determinato proprio per questo metodo ancora una volta inaccettabile nella gestione della società ad una spaccatura. Forse per la prima volta si è arrivati ad un voto così basso in termini percentuali nella storia della Ruzzo Reti, solo 21 sindaci su 36 hanno sostenuto questo metodo, oltre che al di là del merito dei nomi delle persone che francamente continuano ad essere inaccettabili, anche perché gli accordi sono accordi che si reggono sulle stesse logiche e gli stessi criteri della nomina dei consiglieri degli organi di indirizzo. Ieri parlavamo dell'organo di garanzia e vigilanza e dalla scelta di composizione dell'organo, nonostante ci siano stati dei ragionamenti, delle discussioni preventive, sono stati esclusi ben 15 sindaci, alcuni, non tutti quanti non hanno partecipato al voto per questa ragione, ma il dato di fatto è che 15 su 36 non hanno partecipato, non hanno votato questo collegio sindacale. Qual è l'effetto? Intanto una spaccatura all'interno della società. Ancora una volta si vuole escludere una parte importante, intanto il comune capologo di provincia, dall'attività di controllo, di verifica della trasparenza, di verifica degli atti, e questo è grave perché è impossibile e inaccettabile che ci sia un'esclusione dai controlli. C'è un po' di allergia ai controlli interni, come in questo caso, o esterni, come è avvenuto per la polemica che c'è stata inaccettabile, incomprensibile con l'autorità di garanzia, ovvero l'ERSI. Ieri abbiamo scritto per l'ennesima volta, è stata scritta una pagina brutta nella gestione della Ruzzoreti, siccome sta bene. Secondo lei dove sta andando il Ruggio con questa attuale governance? Io l'ho detto, l'ho detto non tanto ieri, dove è stata una conferma nella gestione della società, ma sui numeri e sulle modalità di gestione, sull'aumento dei costi di gestione, delle spese fisse, dei costi fissi della gestione corrente, se si continua così, soprattutto sulla base delle indicazioni dell'ERSI, con l'aumento dei costi fissi, dei costi della politica sostanzialmente, si rischia di arrivare al 2023 senza essere nelle condizioni di poter confermare l'affidamento in house. Questo non lo dico io, ma lo dice l'ERSI, l'ho detto l'ERSI più volte ed è un segnale rispetto al quale chi governa evidentemente continua ad essere sordo.